imma tataranni 3 sostituto procuratore generale parte forte su rai 1 raggiungendo oltre 4,6 milioni di persone 27,1 per cento di share staccatissimo il grande fratello otto su canale 5 che però mostra cenni di ripresa coinvolgendo quasi 2,5 milioni di utenti 18,2 per cento tonfo per fake news di max giusti su rai 2 che racimola soltanto il 3,6 per cento di share di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 25 novembre rai 1 imma tataranni 3 sostituto procuratore 4 milioni e 624 mila di spettatori 27,1 per cento di share canale 5 grande fratello 8 2 milioni e 462 mila di spettatori 18,2 per cento rai 2 fake show diffidate delle imitazioni ha interessato 580 mila spettatori 3,6 per cento italia 1 i mercenari trefe expendables ha avuto un ascolto di un milione e 140 mila spettatori 6,5 per cento rai 3 presa diretta ha convinto un milione e 105 mila persone 5,7 per cento rete 4 quarta repubblica ha raggiunto 732 mila spettatori 5,1 per cento la 7 il profumo del mosto selvatico ha interessato 641 mila spettatori 3,5 per cento tv 8 red 2 ha fatto compagnia a 233 mila spettatori 1,3 per cento 9 little big italy ha catturato l'attenzione di 431 mila spettatori 2,3 per cento ascolti tv lunedì 25 settembre 2023 preserale e access prime time affari tuoi vola con 4,2 milioni di utenti striscia la notizia parte bene con oltre 3,8 milioni di spettatori flop del mercante in fiera inchiodato al 3,4 per cento rai 1 affari tuoi ha raggiunto 4 milioni e 243 mila spettatori 19,8 per cento di share rai 1 5 minuti ha interessato 4 milioni e 93 mila utenti 20,2 per cento canale 5 striscia la notizia ha convinto 3 milioni e 847 mila persone 17,9 per cento rai 1 reazione a catena è stato seguito da 2 milioni e 783 mila spettatori 23,4 per cento nella prima parte e nella seconda da 4 milioni e 100 mila spettatori 26,4 per cento canale 5 caduta libera ha ottenuto 1 milione e 565 mila telespettatori 14,8 per cento nella prima parte e ne ha avuti 2 milioni e 659 mila 18,3 per cento nella seconda rai 3 il cavallo e la torre ha avuto 1 milione e 377 mila spettatori 6,6 per cento rai 3 un posto al sole ha appassionato 1 milione 696 mila spettatori 7,8 per cento rete 4 stasera italia ha informato 836 mila spettatori 4 per cento nella prima parte e 808 mila 3,7 per cento nella seconda la 7 8 e mezzo ha informato 1 milione 768 mila spettatori 8,2 per cento tv 8 100 per cento italia ha ottenuto 490 mila telespettatori 2,3 per cento 9 don't forget the lyrics ha registrato 515 mila telespettatori 2,4 per cento rai 2 il mercante in fiera compino insegno segna 638 mila spettatori 3,4 per cento